Il coronavirus non ferma l'impegno degli studenti dell'Istituto Badoni, che nonostante le scuole chiuse hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Elisa Pomi, della seconda B Informatica, ha vinto la fase regionale dei giochi della chimica nella sua categoria, un concorso al quale l'Istituto Badoni prende parte da diversi anni e che si struttura in una prima fase regionale e in una seconda nazionale, che vedrà quest'anno la partecipazione della brillante studentessa del Badoni. Bel risultato anche per Alessio Figini, della seconda B Elettronica, che nelle prove lombarde del 16 maggio è risultato settimo su 150 partecipanti. Due ottimi piazzamenti per Elisa e Alessio raggiunti anche grazie all'aiuto delle professoresse Arrigoni e Maggioni, che nonostante la particolare situazione di questi mesi hanno seguito gli studenti con corsi di approfondimento e lezioni a distanza. Traguardo prestigioso anche quello raggiunto da Andrea Viganò, studente della quarta A del Liceo delle Scienze e Tecnologie Applicate. Il sito Python Package Index, il principale archivio di pacchetti per il linguaggio di programmazione, ha pubblicato un progetto di Andrea che da adesso è quindi a disposizione di tutti i programmatori. Il progetto EIS, sottolinea Andrea, è nato all'inizio del 2019 come un semplice progetto di informatica a scuola. Poi il potenziale di questo programma e la mia passione per la materia mi hanno motivato a sviluppare ulteriormente il progetto. Il frutto dei successivi 15 mesi è un ambiente di calcolo algebrico, che in inglese suona Algebric Calculation Environment, cioè EIS. Grande la soddisfazione del dirigente scolastico Angelo De Battista e dei docenti per i successi ottenuti da questi giovani promettenti.